buongiorno ragazzi un orario un po' insolito ma sono le sei di mattina ma l'allenamento chiama poi dopo sono impegnato sono di corsa a un pranzo quindi lo faccio ora questo video faccio questo video dopo l'allenamento di ieri perché di quello si è trattato e e ho già sentito diciamo varie battute non sfottò perché poi dopo chi valuta il calcio di fine luglio e della materia non capisce nulla perché questo non è un calcio valutabile sono degli allenamenti eh anche perché poi vi ricordo tutti i birra moretti e vincevamo d'estate d'estate facevamo eh indigestione di titoli vinti e poi arrivavamo sul campo anche con Moratti spesso e e quando si alzava al livello eh succedeva tutt'altro no? Di quando ci rompevano tutti le scatole che vincevamo sempre lo scudetto sotto l'ombrellone eh il calcio secondo me eh gli allenamenti eh partite di allenamento puoi valutare sono quelle che ci saranno tra una quindicina venti di venti giorni non queste anche perché io ricordo a chi fa le battutine a chi diceva che Gosens era un upgrade di Perisic quando io all'arrivo di Gosens dissi è un giocatore totalmente inutile per il gioco di Inzaghi ed è soprattutto un giocatore che eh purtroppo eh farà flop perché ha anche dei problemi fisici ma qualcuno che fa l'esperto e valuta il calcio di luglio come può fare mio figlio a cinque anni bastava vedere Gosens quando correva all'indietro e come muoveva il bacino per capire quando si girava per capire che era un giocatore con dei gravi problemi fisici ancora perché ricordo che fuori classe che dicevano che Gosens era un campione ricordo che Gosens all'Inter in due anni ha giocato novanta minuti una volta sola quindi forse quando dicevo che Gosens non era da prendere c'era un motivo poi per l'amor di Dio sbaglio anch'io sulle valutazioni quando dicevo di non riprendere Lukaku eh la volta che è tornato e tutti erano lì a stappare le bottiglie poi dopo abbiamo visto come andare a finire come è andato a finire ma nonostante tutto i leoni di tastiera di luglio di parlo degli interisti lo avrebbero ancora rivoluto Lukaku ed abbiamo visto l'annata alla Roma di Lukaku che non sa come cosa fassero infatti lo ha rispendito a casa ricordo ma anche a tutti quelli e stappavano all'arrivo del fuoriclasse Correa anche gente che ha canale YouTube che si passano da esperti di calcio quindi i giocatori si valutano quando il livello si alza io su Bissec e su Taremi sono stato duro ed è assolutamente vero io su Bissec già dall'anno scorso ho sempre detto che non lo vedo ancora al posto di Acerbi perché tatticamente a livello di posizionamento sull'uomo non è pronto per sostituire Acerbi allora ma se poi Bissec è pronto per sostituire Acerbi cosa lo cerchiamo a fare in centrale? Inzaghi cosa lo cerca a fare un centrale se abbiamo Bissec? Bissec può diventare un ottimo braccetto io l'anno scorso dissi e lo vedevo molto alla David Luiz la David Luiz un esterno destro difensivo e ti dirò di più ne parlavo anche ad una ragazza dei chat che sono i dati che si chiama Ali lo vedo benissimo anche come mediano difensivo io Bissec perché ieri è stato il migliore in campo quindi vi ricordo a tutti quelli ora è giusti di vi giusti vi ricordo a tutti voi che criticavate Turam e quando l'anno scorso gli si aspettiamo dieci partite prima di valutare il signor Turam perché il settanta per cento degli interisti al nostro ticus gli rompeva i coglioni perché non segnava non è un attaccante non lo dovevamo prendere calma 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 le valutazioni si fanno a trecentosessanta gradi guardando anche gli ultimi anni del calciatore Paolo di Taremi di Zelischi Zelischi è un altro che nello schema di Inzaghi secondo me due la fatia perché non ha più la colza di cinque sei anni fa infatti ad un certo punto è calcio di luglio non va valutato ma puoi valutare i movimenti quello sì a un certo punto si è spostato centrale perché di là non riusciva nemmeno a fare la fase difensiva Zelischi è un giocatore che non ha più la corsa che aveva tre quattro anni fa per fare la mezzala doppia fase ci vuole corsa guarda Mkhitaryan quanto ha corso ieri guarda Bisse che quanto ha corso ieri non è vero che non c'è gente non corre c'è gente che corre lo stesso Taremi sa benissimo che avrà un'unica occasione quest'anno per farsi vedere ed è quella di inizio campionato dove lui giocherà qualche partita Taremi è già tirato all'uscito è già in forma ma Taremi io lo valuto quando si alzi al livello non lo valuto nelle partite di allenamento contro squadre che valgano una serie cita italiana quindi io Bisse che continuo a dire che deve migliorare molto in marcatura in posizionamento non è pronto per prendere il ruolo di Acerbi può diventare un ottimo braccetto ma io lo vedo anche come centrocampista difensivo come mediano chiamalo me ti pare quindi calma perché Ricky Alvarez nelle partite preseason in queste partite qui era un misto tra Kakà e Romario poi arrivava il campionato e faceva ridere quindi questo è un calcio che ancora non è valutabile chi valuta questo calcio qui mi dispiace ma di calcio non capisce nulla anche perché poi dopo fatte le figure come avete fatto con Correa con Gosez con il ritorno di Lukaku siete stati smerdati da Turam quindi calma già ci avete picchiato la testa una volta calma calma questa è una squadra che parte secondo me eh con dei vantaggi notevoli in campionato perché è già rodata e già connessa con l'allenatore quello che puoi valutare secondo me in un calcio di fine luglio è la voglia che hanno i giocatori eh è comunque lo spirito di squadra perché già si vede che c'è un bello spirito di squadra ma non puoi valutare altro valutiamo valutiamo la squadra a livello calcistico fra due settimane quando ci saranno partite più importanti perché queste partite di allenamento non sono valutabili poi se uno si vuole citare per un due a zero e la Spalmas per la pizzi ghettone e poi ci mancherebbe ma io aspetto io volo basso a differenza di qualcuno eh ma non avevi detto quello non avevi detto quell'altro sì te l'ho appena detto cosa avevo detto Correa Gosez Lukaku tra voi appena detto e e tantissimi altri chi lo sa mi segui quindi eh calma anche perché ci sono delle cose a me eh sinceramente poi indipendentemente da questo ognuno ha la sua visione calcistica c'è quel giocatore che a te piace che a me non piace ma io però ti motivo perché non mi piace ti dio perché non mi piace ti dio perché secondo me all'inter può fare flop come te l'ho detto per Correa come te l'ho detto per Gosens e come te l'ho detto per tanti altri giocatori come te l'ho detto per il ritorno di Lukaku che con il calcio di Inzaghi non c'entrava nulla un giocatore che eh l'attaccante con Inzaghi deve sapere giocare anche in area e quello in area eh è un bisonte che ci vuole tre ore per muoversi ti avevo detto che Lukaku aveva perso tono muscolare dopo l'anno di Bacchino a Celsi ti avevo detto essere allenato poco e non aveva giocato e e non per nulla infatti Lukaku nelle partite importanti veniva messo a sedere e giocava Giaco a 37 anni chissà perché che poi dopo era successo quello che ti avevo detto io ma non perché io sono un esperto ma se te mi valuti le partite di luglio vuol dire che secondo me di calcio ci appisci poco quindi calma calma è vero che le vittorie aiutano anche per allenarsi perché ora siamo in una fase di allenamento sono contento che sia rietrato a Cerbi perché se a Cerbi riesci a dare un 50 60 per cento rispetto all'anno scorso noi siamo già fortunati perché serve un centrale difensivo come il pane e speriamo che questi diottri ce lo vadano a prendere con questo vi saluto vado a fare l'allenamento anti pancetta perché sennò qui la pancetta ragazzi la cresce e magari se ho tempo ci becchiamo stasera per un altro video ciao inter Grazie.